Sul Mediterraneo centrale insiste una circolazione a stretta curvatura ciclonica posizionata poco a sud della Sicilia, la quale sta determinando una situazione di pesante maltempo sul settore sud orientale dell'isola e sulla Calabria Ionica. Si tratta di un vortice che nelle ultime ore ha subito un approfondimento tale da evolvere in un ciclone simil tropicale. Le caratteristiche di queste figure bariche sono venti molto forti tra burrasca e tempesta e piogge a carattere di nubifragio. La nostra regione non verrà interessata dal vortice poiché tra la serata di oggi e la giornata di domani la depressione perderà forza e si ritirerà verso il Mediterraneo orientale dove subirà il processo di colmamento. Intanto dall'Atlantico però avanza una perturbazione piuttosto intensa la quale transiterà sulla nostra penisola ad iniziare dal pomeriggio sera di sabato e raggiungendo la nostra regione nel corso del pomeriggio di domenica. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana. Sabato 30 ottobre condizioni di cielo poco nuvoloso ovunque con modesti addensamenti ma senza precipitazioni, temperature senza particolari variazioni, venti deboli da est e mare poco mosso. Domenica 31 ottobre cielo da poco nuvoloso a nuvoloso con nubi in ulteriore aumento dalla serata quando potrebbero verificarsi locali piovaschi ad iniziare dal settore settentrionale della regione. Venti deboli da est con tendenza a disporsi da sud o da scirocco, temperature in lieve aumento nei valori minimi, mare da poco mosso a mosso. Nella giornata di lunedì 1 novembre il fronte perturbato sarà in piena azione sulla nostra regione determinando piogge abbondanti specie tra il pomeriggio e la serata e in misura maggiore sul settore occidentale della nostra regione. In nottata possibilità di temporali, venti in intensificazione nel corso della notte fino a forti o molto forti da libeccio. Martedì avremo ancora residui e condizioni di tempo instabile segnatamente sul cilento con locali precipitazioni ma nel corso della giornata è previsto un rapido miglioramento con nuvolosità in dissolvimento. Le temperature tenderanno a diminuire e in maniera più sensibile tra mercoledì e giovedì. Per maggiori dettagli invito come sempre i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo facebook meteo cilento. Bene termino qui un buon fine settimana da Giuseppe Stabile